Come si tratta di impegno, sacrificio e soddisfazione? La nostra natazione parlava della nostra città, che è la città dei papi, e illustrava tutte le nostre culture, la nostra cultura e la storia della nostra città. Venire a Milano ed ora vedremo come andrà questa giornata. Abbiamo conosciuto altre culture di altre città. Perché comunque è un'esperienza che è importante e che comunque fa crescere anche. Sì.